La gita degli studenti provenienti da Romentino in provincia di Novara si è trasformata in pochi secondi in un incubo. Erano quasi le 15 quando un autobus di una scola resca ha subito un incidente mentre tentava di entrare nel parcheggio di Villa Pisaniastra. All'interno del bus 35 studenti minorenni e 4 docenti. L'autista mentre stava facendo manovra per entrare nel parcheggio ha urtato lateralmente i rami di un albero causando la rottura di tre vetri laterali del bus. L'esplosione dei cristalli ha provocato lievi ferite a 14 studenti. I vetri frantumati in mille pezzi hanno colpito prevalentemente chi era seduto sul lato sinistro del veicolo. Alcuni di loro una volta usciti dal bus erano visibilmente scossi così come l'autista del mezzo che ha preferito non parlare. Un altro autista che si trovava in coda per entrare nel piazzale è testimone di quanto accaduto. Sono esplosi i vetri? Perché ha sbagliato manovra? Ha preso la cura troppo stretta. Troppo stretta la presa. La pressione dei rami ha fatto esplodere i vetri? I vetri esatto. I vetri sono schizzati dall'interno addosso alle persone? Esatto. Erano in mutande, ragazzi e ragazze in mutande erano. I vetri sono scivolati dietro la maglietta, in mezzo ai pantaloni. I vigili del fuoco intervenuti prontamente da maestri hanno collaborato con il personale del SUEM per assistere gli studenti coinvolti nell'incidente. I 14 ragazzi feriti sono stati trasferiti per controlli medici presso il pronto soccorso di Dolo e Mirano a bordo di un bus dei vigili del fuoco. Per gli autisti dei pullman l'entrata del parcheggio non è adatta per i loro mezzi. Le rame degli alberi sono un ostacolo da rimuovere. Deve essere potate per forza, stringono, il passaggio viene stretto, anche le buche, riportato del materiale sulle buche, insomma abbiamo sistemato l'entrata della villa. Il sindaco di Stra, Caterina Cacciavillani, si è recata sul luogo dell'incidente per monitorare la situazione e offrire supporto alle autorità coinvolte. Certo adesso con i giardinieri sia della villa e con i lavori pubblici del comune, con i tecnici insomma verificheremo. A me sembra un accesso più che adeguato anche per autobus turistici che peraltro qui arrivano tutti i giorni però... Casi analoghi non sono mai capitati? No, 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 io non ricordo casi analoghi.